Non sapevo che avresti dato via il canto. Avevi detto di aver buttato via tutto. Ragazzi, quello fu il nostro peggior litigio. Uno di quei litigi che durano ore, tanto che alla fine sei così stordito che non ti ricordi neanche più perché hai iniziato. Nel frattempo, fuori dalla finestra cambiavano le stagioni, dal calendario si staccavano le pagine. Fu pazzesco. Ma alla fine, e non chiedetemi come, arrivamo a una conclusione. L'abbiamo veramente deciso? Sì. Andiamo a vivere assieme! Grazie!